Gentili telespettatori, buona giornata. Meloni sapeva cosa? Eh sì, la Piccolotti ha un'ipotesi. Meloni sapeva quello che sarebbe successo in Albania e si è autosabotata. Eh? Eh sì, il complottismo al contrario, cioè la Meloni dice che c'è un complotto ma in realtà è lei che si autocomplotta, no? Che si auto, come possiamo dire, fa autosabotaggio, si autosabota e praticamente lo fa perché in modo che poi si possa dire poverina, ce l'hanno con lei, i poteri forti, il deep state, lo stato nello stato, gli apparati, ce l'hanno con lei, poverina, gli rovinano il lavoro e adesso magari dopo questo autocomplotto arriva al 40% come sentiment, come voti, perché gli italiani poi stanno con lei e così può mandare a quel paese Salvini Tajani, tornare alle elezioni e prendere il 40%. Insomma, Elisabetta Piccolotti ha una bella fantasia, l'autocomplotto di Meloni, ma lei dice che ci sono troppi punti oscuri e che il governo sapeva che la forzatura non sarebbe passata. Vorrei ricordare alla Piccolotti che non c'è stata nessuna forzatura. Qual è la forzatura? Allora, i migranti che sono stati riportati in Italia, ricordatevi una cosa, o andavano in Italia e in Albania in un CPR o andavano in Italia e in un CPR, quindi sarebbero andati o in Italia o in Albania in un CPR per il rimpatrio. Quindi non c'è nessuna forzatura, dovevano essere rimpatriati come si rimpatriavano prima, l'unica differenza è che venivano mandati in Albania come deterrente per far capire agli altri che stavano per partire, attenzione che voi non vi facciamo entrare in Italia ma vi facciamo finire fuori dall'Italia in Albania. Quindi non c'è nessuna forzatura, non c'è nulla di illegale, i CPR sono legalissimi, il fatto è che il giudice ha detto che i paesi della lista del governo, lì in questo caso Bangladesh ed Egitto, non sono paesi sicuri, pertanto non si può rimpatriare queste 12 persone perché vengono da paesi non sicuri, certo che dire che l'Egitto è un paese non sicuro ce ne vuole. E così non c'è nessuna forzatura, assolutamente, o andavano lì o andavano in Italia ma sempre in un CPR, non è che andavano in Italia a visitare Siena e invece sono andati in Albania, no, CPR là o CPR qua. Adesso il giudice li ha fatti tornare in Italia e non andranno in un CPR perché non potranno essere rimandati a casa in quanto Egitto e Bangladesh non sono paesi sicuri per il giudice italiano. Quindi, cara Elisabetta Piccolotti, il governo sapeva che la forzatura non sarebbe passata, sta frase non ha nessun senso. Secondo Piccolotti, Meloni e il governo stanno usando strumentalmente la vicenda in Albania e l'attacco alla magistratura affinché non si parli dei loro flop sulla manovra. Flop? Flick e flock? Ma scusate, ma quali sono i flop sulla manovra? La manovra è stata apprezzata dalle principali agenzie di rating internazionale, Fitch e Standard & Poor's, che hanno migliorato il loro, cioè hanno dato un giudizio migliore sull'Italia di quello che c'era prima, proprio in base alla manovra. I mercati hanno reagito molto bene, lo spread è arrivato ai minimi da tre anni, dal 2021. Quindi i mercati internazionali, spread e agenzie di rating hanno detto che la manovra è eccellente. E quale sarebbe il flop che vede la Piccolotti, il flop sulla manovra? Nella manovra vengono dati molti più soldi di quelli che ci dovevano essere sulla sanità, quelli che dovevano essere assegnati alla sanità, c'è il bonus nati di 1000 euro, c'è, diventano strutturali il taglio del cuneo fiscale, l'IRPEF, si alzano le pensioni minime oltre la perequazione, quindi oltre alla parificazione con l'inflazione dell'anno precedente. La Piccolotti vede il flop della manovra, addirittura avrebbero creato tutto questa cosa, la Meloni avrebbe architettato tutto questo caso Albania per nascondere il flop, 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 sulla manovra, flop. Beh, che dire, insomma, la credibilità di questa Piccolotti secondo me rasenta lo zero, poi magari c'è qualcuno che può inneggiare, piccolotti, Elisabetta. Va bene, mentre voi inneggiate ad Elisabetta, io vi ho raccontato che le cose che ha detto sono facilmente smontabili, sono anche un po' ridicole anche solo da dire. Comunque, dice, lo sapevano tutti che il Tribunale non avrebbe convalidato il trattenimento, lo sapevano tutti i giuristi italiani, lo sapeva bene quindi anche Giorgia Meloni. Evidentemente ha utilizzato l'argomento per indirizzare il dibattito pubblico affinché fosse funzionale alla campagna elettorale della destra, basta guardare i fatti e alla loro cronologia per capirlo. La loro cronologia quale? La cronologia sul computer? Negli ultimi siti visti? Ma quale cronologia? Insomma, quindi la Meloni si è autosabotata con un complotto al contrario per nascondere una manovra fallimentare che vede solo lei e per vincere le elezioni regionali che ci sono tra poco, lei avrebbe organizzato tutto questo. Pensate un po', i centri in Albania se ne parla da un anno e mezzo e secondo la Piccolotti, la Meloni un anno e mezzo fa avrebbe fatto tutto magari per vincere le elezioni in Emilia Romagna fra qualche giorno. Un anno e mezzo fa spende un miliardo per fare i centri in Albania, per nascondere la manovra che sarebbe arrivata dopo un anno e mezzo e mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia come stanno da quelle parti, Caspiterina, ti perdi anche a raccontare queste sciocchezze qua. Caspiterina, la politica italiana è arrivata a un livello incredibilmente basso. Molti dei miei video sono fatti per raccontarvi le sciocchezze che raccontano i politici che sono facilmente smontabili, cioè qualsiasi persona di media intelligenza vi direbbe le cose che ho detto io. Non è che io vedo cose che voi umani non potreste immaginare, queste cose le vede chiunque. Arrivederci a tutti e grazie.